Ho una conceda! Stella! Uè, uè, che è stato? Sti! Mario! Ho vinto! Onferdinà! Stanotte mi sono sognato a vostro padre! E c'è uno, due, tre e quattro! Cinquanta lire in coppia! E io così ho fatto con maitta a buon anno! È troppo fortunato! Ogni sabato quello vince un ambo interno... Dovete sapere che io ho vinto una quaterna da 5 milioni, anzi vi prego di mantenere il riservo, con quattro numeri che mio padre ha dato a un certo Mario Bertolini. Però il biglietto lo dò anch'io! Si è fatta la televisione, quella grande, quella piccola, la cucina con la lavapiatta, il frigorifero, il tostapane, il frullatore, il forno grande, il forno piccolo, con il timer, perché senza timer non gli aveva buono, no? Eh, certo! Dichiarate! Eh, non è giovedì se non c'è cinema e mattina con Paolo Sommaruga, ma quest'oggi soprattutto con Sergio Castellini. Un grandissimo piacere di averlo! Grazie, anche per me! Che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto Non ti pago una commedia meravigliosa, commedia, poi parliamo anche del termine commedia, perché poi De Filippo c'ha tutto dentro, di Edoardo De Filippo, riletta registicamente da Edoardo De Angelis con Sergio Castellitto, protagonista, lo ricordate? L'anno scorso Natale in casa Copiello, fu un grande successo sul Rai 1. Hanno fatto altre due, Edoardo De Angelis con Sergio, Non ti pago, il 21 dicembre, e sabato, domenica e lunedì, il 14 dicembre, va prima. Non ti pago, meravigliosa! Cioè tu c'hai un bancolotto, un tuo dipendente vince con i numeri che tuo padre li ha dettato... Nel sogno! Nel sogno! E questo lui non lo può tollerare. Ma sai, la grandezza di Edoardo che scriveva delle commedie che facevano ridere, ma dentro c'era il seme della tragedia quasi, del dramma, perché sono sempre sul baratro di qualcosa di scandaloso, di gravissimo che può succedere. Noi ci siamo veramente molto divertiti a raccontarlo, ad essere in qualche modo fedeli a quella che è la drammaturgia e quant'altro. Però insomma il cinema, e mi piace chiamarlo cinema, ha dato forse qualcosa in più. Noi siamo abituati proprio nel nostro immaginario, quando immaginiamo Edoardo, lo immaginiamo in quelle meravigliose riprese in bianco e nero che la Rai le possiede praticamente tutte, tranne non ti pago. No, tranne sabato, domenica e lunedì. E sai perché? Perché non so chi, un tecnico, qualcuno sbagliando, registrò sulla cassetta. Ne registrò un'altra. Sono tragedie queste vocali. Una volta succedeva. Noi non possediamo l'immagine di sabato e domenica e lunedì, possediamo soltanto una versione radiofonica. Insomma è stata un'esperienza molto divertente, molto bella, molto emozionante. Però per Sergio Castelletto, adesso gigante, vicino a un gigante veramente inarrivabile come Edoardo, ma giovane studente di Accademia. Sì. Come lo vedevate Edoardo De Filippo? Beh, per noi era come una specie di rock star, di Vasco Russi. Insomma noi che volevamo fare teatro, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica, avevamo il permesso di poter andare a teatro con uno sconto studenti. Ci davano quei posti là sopra, scomodi e così via. Però andare a vedere Edoardo per noi era veramente un punto quasi d'arrivo. E io ho questa immagine molto emozionante di quest'uomo, piccolo in fondo, minuto, fragile, in questo letto. Mi ricordo che vidi al Teatro Eliseo di Roma proprio Natale in casa Cupiello. E c'è questa immagine di questo Luca Cupiello in questo letto circondato dal presepe dei personaggi che lo ascoltano. E lui bofonchia queste cose che sono in realtà la verità, però detta in un certo modo. Io mi ricordo questa immagine che ancora oggi, dopo tanti anni, ancora è forte, ancora è emozionante per me. La rilettura di... E quindi insomma anche il fatto, scusami, il fatto di trovarmi dopo 30-40 anni a essere io quel personaggio là, insomma è un dono della vita. Eh sì. In queste tre tragedie, commedie, come le vogliamo chiamare, c'è anche un concetto di famiglia, come si è evoluta, che diventa un po' lo specchio dei cambiamenti sociali e culturali. Natale in casa Cupiello, il dopoguerra, quindi ancora i valori tradizionali. Già non ti pago gli anni cinquanta, un po' l'individualismo, la voglia di arricchire. Un certo benessere. Fino a Stato, il lunedì, quando poi scoppiano quasi le nevrosi borghesi, l'incomunicabilità tra moglie e marito. Cioè, insomma, la famosa commedia in cui c'è il ragù, tutto il ragù che circonda, tutta la preparazione. Uh, la descrizione del ragù. Il ragù comincia dall'inizio alla fine. Qual è il verbo che usavate Filippo per il ragù? Eh, non me lo ricordo. Pippiare. Pippiare. Il discorso della famiglia è fondamentale. Cioè, Edoardo ha sempre parlato della famiglia, della sua crisi, della sua necessità, dei suoi rancori, delle sue dolcezze, delle sue emozioni. È il microcosmo fondamentale di tutta la storia, di tutta la drammaturgia di Edoardo, in qualche modo. Allora, sabato, domenica e lunedì, questo marito, Peppino Priore, che tutto questo weekend sobolle anche lui, insomma, non ce l'ha con tutti, fino alla fine, insomma, c'è la gelosia. Fino al pranzo domenica e esplode. Vediamo, sabato, domenica e lunedì. Io non ce la faccio più a combattere contro la famiglia, i parenti. La pazienza c'ha un limite. Se tempo qua dentro, qua dentro, più sta da sola, eh? A fare la serva, a servire tutta la famiglia, come una vaiassa. Io per questa donna non esisto più. Mi tratta come se fossi un servitore. La mattina quando esco per andare al negozio non se ne accorge nemmeno quando una sera la saluto, si e no, mi fanno così con la testa. Vergogna! Continua! Ammirazione! Di questa atresca stivata! La gelosia divorante. La atresca che non c'era. No, tutto inventato da lui. In realtà la cosa straordinaria del personaggio è che lui si inventa in qualche modo proprio psichicamente questa gelosia perché non sopporta l'idea che questo amore stia finendo. E allora qual è l'unico modo nella sua cultura, nella sua concezione di rifar partire questa emozione con questa moglie, con questa donna? E dire se tu mi stai tradendo. E quindi di riaccendere questo fuoco del conflitto. No, perché l'amore è un conflitto. Non è soltanto un'armonia. Attraverso la gelosia. La riaccende con la gelosia. E poi alla fine, nel terzo atto, questo povero fesso poi alla fine chiede scusa a tutti. Chiede scusa a tutti. Addirittura dà un bacio sulla bocca al suo, come dire... Al suo concorrente. Al suo rivale. Al suo presunto rivale. Al suo presunto rivale. Avete visto anche i colori, i vestiti, anche la messa in scena di Edoardo De Angelis che è stupenda perché proprio il passaggio temporale, no? Insomma, da... Sì, sì. Dalla in casa Copiella non ti parlo. Molto luminoso. Molto shining, come posso dire. Il testo... Cioè, le parole di De Filippo. Sergio, hai detto che una volta, leggendo gli appunti di Camilleri, hai visto una volta però Orna censurare De Filippo in qualche modo. Sì, una cosa che mi ha colpito moltissimo. Lui si lamentò... Andrea Camilleri è stato il regista RAI di tutte quante le trasposizioni delle commedie De Filippo. Lui si lamentò, Edoardo, perché la RAI, non so chi, la censura di quegli anni e così via, chiese di censurare una battuta che ormai è nell'intercalare comune, per Dio, no? Che è una esclamazione in qualche modo laica, ma per niente offensiva. Non più blasfema, diciamo. E le dissero, no, non si può dire, non si può dire. Lui si lamentò molto di questa cosa. Contemporaneamente, in quegli anni, lui aveva registrato, non ti pago. So che raccontando questa cosa uno entra dentro le pastoie del linguaggio e del politicamente corretto. Ma questo era... Insomma, gli fu chiesto di tagliare questa esclamazione. Non gli fu chiesto, però, quando andò a registrare non ti pago, quando c'è la scena in cui lui si lamenta di sua moglie, che non lo ho capito, i personaggi di Edoardo si lamentano sempre della moglie. Sempre. Tu non mi hai capito, tu sei stata la mia rovina. Tu mi hai rovinato l'esistenza e così via. In questa scenetta Edoardo dice, io non me la dovevo prendere napoletana, io me la dovevo prendere africana, razza inferiore. Dice questa battuta che nessuno chiese di censurare. Ed è molto interessante questo nel linguaggio, no? Perché a distanza di anni noi, come in una sorta di migrazione progressista della censura, no? Da destra a sinistra, da centro, non so dove andrà a finire. Ci siamo posti il problema. Io quella battuta non l'ho potuta dire. Certo. Certamente. Allora. Un scandalo. Capito? È molto interessante come... Ci piacerebbe andare avanti. Se vogliamo ricordare l'appuntamento... Allora, l'Universo Edoardo, il letto da Edoardo De Angelis e Castellitto. Il 14, martedì, sabato, domenica e lunedì. Il 21, martedì. Non ti pago. Sergio Castellitto. Mi piacerebbe andare avanti a lungo e chiacchierare. A non ti pago daremo anche i numeri, quindi ve li potete giocare. Va bene. Grazie Sergio Castellitto. Grazie. Grazie Paolo Sommari. Grazie.